Musica Humanity 1, scontro Meloni-Scholes, nave tedesca e la Germania a dover farsi carico dei migranti. Migranti Geobarens a Catania non sbarcano tutti, in arrivo gli ispettori per rivalutarli. Migranti al porto di Reggio sbarcano 89 a bordo della Rise Above, tra loro anche 40 minori. Clima, ottobre e l'Europa calda come non mai preoccupano i dati raccolti.